Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo, passate su fifacoin.com E con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO! Bella vecchia trappare insieme Granas, siamo tornati con un nuovo Pacovening Finalmente, qui, sul nostro canale Tutti i giorni, ogni giorno un nuovo Pacovening Come vedete oggi, no non lo vedete, comunque ve lo diciamo noi Ci sono i Tots della Serie A e della Ligan Quindi c'è un bel Tevez Tots 93, ma noi cerchiamo anche Ibra Sono tutto Ibra E ma vabbè, un Tevez Tots non mi farebbe schifo comunque No però Ibra Ma bando alle ciacce cominciamo subito Uno e via Lo sento dentro Eh sì, da te la canzone che lì, lo sento dentro Attenzioni, un altro Pacchietto Credibile Credibile C'è! Icaxson 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 Che non parrà Un emerito Vai così Vai C'è 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 Oddio Sì Ancora C'è Dai dai Oggi dobbiamo trovare qualcosa Coniglio stai zitto Pirlo E poi c'è Pedro Della Rosa Che dovrebbe venire all'Inter Ma non è vero Non viene più perché è rinnovato Oh Vediamo Vediamo Un altro Pacchetto Vediamo Io sono un po' sconsolato Lo sai Oddio Dubito Sono un po' sconsolato Vedi tutti Devi incazzare Devi piagni Tu sto giorno Così Alla creuccia Funziona sempre Non possiamo vedere quanto vale Ma lo conserviamo nel club Adesso andiamo a vederlo Ma è sta scherzata Se fanno una squadra con Tony Ho il capocannoniere Tanto non vale tipo 10.000 Tony Vediamo quanto vale Con Messi in prestito No C'è stata da tutti La presentazione di FIFA Guarda quanto Tempo Per vedere Quanto vale sto coglione Questo pure vale una cifra Vabbè Tanto Allora Però fino adesso Siamo sopra Se vendiamo Tony Ma tanto non si vendono i Toz Quindi ok Continuiamo Perché noi vogliamo Ibra Toz Ibra Toz Ma pure la gazzetta Ibra Toz Che è tutto un nome Ibra Toz Ibra Tozza Ibra Tozza Ibra Tozza Zet Oh E' Naldo Ma pure i Toz Però sono soltanto quelli svedesi Perché è soltanto il campione svedese C'è sta Dzeko Vieni a Roma Bello I Saxon Niff Certo C'è Certo Adulis Vai Dai Io vorrei un altro Toz Almeno un altro Toz Dai davvero Un Toz Capito Per Per Ramos Giusto per lui Hola Han Ma noi scartiamo come se non ci fosse un domani Ragazzi perché c'è Vediamo Adesso ci deve essere No Valencia Vai 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 Aveglia le leppe si Un altro si Un altro per forza Un tozzo ce ne sta No eh Bene Bene Ne possiamo anche chiudere qua Comunque Ancora Un altro Pacchetto Di merda Cruel de cudo E' uno basso Però Uno che perito C'è alti e bassi No no Sta sempre in alto E' alti Eppure sta pure in top Stai Vedi Fai più control Vai 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 Eh questo ha bugato eh Questo ha bugato eh Questo ha bugato eh Questo ha bugato Ma perché non mori male Terry Non so Attenzione Dai ma vuol che no Bravo Hai trovato bravo Bravo Credito Ma mazza Ma bravo È forte pure normale Bazzua Zero proprio Oh Bacchettini Stavo a piangere C'è di vita un tozzo Merda Eeeh Mare mare Che schifo Sti back opening Mamma mia Mianna mia davvero Mannaggia fifa Che non c'è da mai Un tozzo Non c'è da mai un gazz Eh Beh Questo manco c'entra Quanto è lungo Ti fa sciato tazzo Sì vai vai Attenzione Per favore Incredibile C'è Martins Ma non è Martins Martins Boh ba ba Boh vabbè Sìììì Troppo fido Che non si vede da Tension 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 Oh Lilian C'è pure Albiol C'è fra Roma e Napoli Hanno fatto una serie A C'è C'è quello lì Era incorzerato C'è Foto segnaletica 666 Questo porta bene Qua Ammazza Proprio Eccolo Proprio Ci sarà Ci sarà O non ci sarà Secondo me non ci sarà I'm coming I'm coming I'm coming Cruze Ma perché c'è da The Leaf Volemo i Toz Ma per più Pensavo che era il viola Toz Ma poi ho detto No Il viola non può essere Toz No No Amaya Pazza Interamaya Ma che cazzo Per dandy Te devi mena Vai Eccolo Iraola C'è mancava Io C'è L'obiettivo era Iraola No Ibraimovic Iraola Perché Tra l'altro Manco Trovato uno Dalla Ligan Manco uno Manco un oro C'è Zero Proprio È vero E' Cavani Che Rupare Cazzo Oh però tu piangi Ma devi piangi bene Devi piangi Di un aligan toz Lui ti ha accontentato Sulla ligan Ma ci vuole andare a Ebro a sto punto Ma pure se era normale C'è No ho fatto una ragazza Non ho scartato Rutger Mi ha un coppia coppiti Lui scusa Vai così Vai così C'è C'è Non li voglio più Guarda che abbiamo Trotto lui No 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 aspetta Il resto conserviamo C'era questo Dovamo andare Guardi quanto vale Oh c'è Quanto drilling Vediamo quanto vale Da 25.000 A 50.000 Vabbè comunque Siamo rientrati E metteremo E questi Scartamoli tutti Dai che c'è Abbiamo fatto una cosa Che lui fa Lei sa Maestà Hai scartato Maaffunculo Porco due C'ha 35 di velocità Ma che cazzo C'evo fa Con totti Sito Alves E va bene così Ragazzi Il pack opening Di oggi È finito Abbiamo trovato Discrittami Abbiamo trovato Quanti if 3 4 Quanti sono 4 E un toz Che era Luca Tony Differentemente dal prezzo Tony ha un valore Morale Un valore ampio Massimo Che bisogna aspirare Perché Tony è Tony Ragazzi Tony E lo ricorderò sempre Anche se non è morto Comunque Noi Se vi è piaciuto questo video Lasciamo 10.000 like Noi ci becchiamo Al prossimo pack opening Come sempre Se altri toz in arrivo Ci sono Sempre Ciao Bella